Giovedì prossimo il Parlamento europeo si appresta a votare una misura di sostegno a favore della Tunisia che prevede l'importazione in Europa e sendazzi di 70.000 tonnellate di olio d'oliva che si aggiungono alle 56.700 già previste da un precedente accordo per sostenere l'economia tunisina fortemente gravata dalle attacchi terroristici dell'anno scorso. Non si può che essere solidali ovviamente nei confronti della giovane democrazia tunisina ma non è certamente questo il modo migliore per esprimerla poiché in questo modo si massacrerebbe la nostra agricoltura già fortemente penalizzata dall'exilella la malattia delle piante pugliesi che ha procurato una riduzione della nostra produzione del 47%. Ci siamo battuti con tenacia all'interno della Commissione continueremo a farlo giovedì all'interno del Parlamento ma l'aspetto vergognoso di questa vicenda è rappresentato dal fatto che a proporre questa iniziativa sia stata Federica Mogherini unica nostra rappresentante italiana all'interno del governo dell'Europa fortemente voluta da Matteo Renzi che non soltanto da Ministra degli Esteri europeo non ha svolto alcuna funzione nella delicata vicenda dei Marò italiani si è intestata altresì questa battaglia che aiuta certamente la Tunisia ma massacra l'Italia. Grazie. Grazie. Grazie.